ma si può nei video fare così luci che fanno quello che vogliono io che dimentico di ricomprare il cavalletto e ogni volta devo mettere il telefono in posizioni improbabili su scatole e cose e sono tornata bionda che colore è bianco, verde, giallo non so che colore sia precisamente cioè è bianco biondo, platino, bianco solo che è giallo e devo finire di fare il colore ma lo so che mi volete bene anche se succede tutto questo nel mio canale il video di oggi come avete letto dal titolo è tumblr inspired hair styles che vuol dire state dicendo sei impazzita che metti i titoli in inglese? no, allora sono delle pezzinature appunto tumblr che vuol dire pezzinature tumblr? non esistono le pezzinature tumblr infatti è inspired ero ispirato a ciò che si vede su tumblr cioè sono facilissime e speriamo che vada a buon fine tutto questo caos e nulla vi lascio al video perché perché? perché vi lascio il video? perché sì? e vi volevo ricordare che domenica io sono Katanzaro al centro commerciale le fontanee dalle ore 15 a fare i cossini del rock talent e nulla io vi aspetto in tantissimi come avete fatto a a Bologna mi avete portato i pupazzi e i disegni e è caduto vi lascio al video basta e cominciamo con il primo hair style con la prima pettinatura che è facilissima davvero 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 facilissima ora cominciamo portando questi capelli gialli yellow dieta volevo dirvi che dato che sto molto muovendo i capelli e ho lexation se i miei capelli naturali sono corti è probabile che voi vediate tipo le le brande dellexation queste cose qui oppure il distacco tra lexation e i miei capelli è molto probabile perché dato che appunto sto facendo cose non stanno al loro posto i capelli e quindi si vedono quindi non vi scandalizzate vi avverto prendiamo una ciocca da qui tipo da qui anzi e intrecciamo all'indietro all'indietro allarghiamo così in modo da dare più volume alla treccia e dopo aver allargato la vostra trecina fate questo e pinzate con una forcina questo dietro alle orecchie ma perché ha i capelli giallissimi lasciate perdere i miei capelli giallissimi comunque è carina potete anche metterla magari più qua più qua così questo è il primo che è il più facile del mondo in assoluto the next is molto banale tiriamo i capelli questi del ciuffo all'indietro li leghiamo con un mini codino prendiamo dis intrecciamo e questa treccia la torciamo sul codino creando così un piccolo mono space bun uno space bun uno space bun uno space bun così piccolino e carino e anche questa è molto molto carina e veloce andiamo avanti questo ciuffo corto è proprio tragico ci serve una corona di fiori quindi mettete la corona di fiori tiratevi i capelli così all'indietro però liberate tipo qualche ciocca così portiamo tutti i capelli su un lato e facciamo una la classica big treccia messi che vediamo sempre praticamente con la corona di fiori dentro quindi dividiamo in tre allarghiamo la treccia e la disordiniamo tipo l'allarghiamo e la facciamo così che devono uscire i capelli fuori che deve essere molto molto messi mi sento molto Elsa oddio sembra Elsa vero e quindi questa è molto carina questa mi piace tantissimo potete anche al posto di mettere la coroncina di fiori fare la trecina piccola con i vostri capelli come nella pettinatura precedente così viene anche molto più carina e la penultima dovete prendete le ciocche e twistate attorcigliate si attorcigliate oddio mi sono cercata un occhio quindi attorcigliate i capelli così davanti su loro stessi fino a tipo dove volete potete anche continuare per tutto dietro mi piace fermarmi qui e fermate con le forcine e mi solitamente piace fare tipo un lato sì e l'altro lasciarlo sciolto così però volendo si può fare ovviamente anche ad entrambi i lati così togliete i capelli dal volto completamente voilà stanche è una delle mie preferite e ora passiamo all'ultima prima cosa dividiamo qui i capelli e prendete solo il ciuffo il resto è meglio se tipo lo legate e ora qui andremo a fare una treccia se non sapete come si fa vi lascio il link nell'info box del video dove lo spiego in maniera più dettagliata quindi va bene si dividiamo in tre e man mano aggiungiamo sempre più capelli mi mi raccomando restate alti non scegliete verso di qua ma andate sempre verso l'alto e arrivati qui tipo ci fermiamo e leghiamo scegliamo il resto dei capelli e potete rimanere così perché è molto carino oppure potete fare gli space buns torciate la ciocca su se stessa e legate e fissate con le porcine questa è la mia preferita è davvero magnifica però madonna ragazzi ma quanto sono già i miei capelli qui devo tonalizzarli tantissimo spero che il video vi sia piaciuto e se siete ancora guardando il video fatemi sapere nei commenti qual è la vostra preferita tra le 4 tra le 5 ne sono 5 giusto credo ne siano 5 e io vi voglio tanto 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 bene noi ci rivediamo al prossimo video un mega bacio ciao ciao ciao